Todis, buongiorno convenienza, frutta e verdura fresche garantite da consegne quotidiane, carni fresche controllate di qualità, pane fresco ogni giorno, prodotti biologici, salutistici e senza glutine. Al Todis trovi qualità, bontà, sicurezza e convenienza. Sui nostri prodotti facciamo centinaia di controlli all'anno. In un periodo nel quale, soprattutto sul fronte della salute, è diventata abitudine fornire cattive notizie, arriva invece una piccola ma importante inversione di tendenza riguardo proprio Civitavecchia. La forniscono il Ministero della Salute e il Centro Nazionale di Prevenzione e Controllo sulle Malattie e fa esplicito riferimento ai decessi e ai ricoveri in pronto soccorso diretta conseguenza delle ondate di caldo che hanno contraddistinto i mesi di giugno e luglio. Ebbene Civitavecchia è una città che sul piano della salute ha meno risentito della situazione assolutamente anomala. Civitavecchia è una delle città nelle quali le terribili ondate di caldo di giugno e luglio hanno avuto minori ripercussioni sulla salute e soprattutto sulla mortalità. Il Ministero della Salute e il Centro Nazionale di Prevenzione e Controllo delle Malattie hanno pubblicato i risultati dei sistemi di allarme del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso nell'arco di due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio. Ebbene dall'analisi emerge che nel mese di giugno complessivamente sia avuta una mortalità del 9% superiore a quella attesa. Le città in cui si è registrato un incremento significativo della mortalità che sembra almeno in parte attribuibile all'esposizione alle elevate temperature registrate sono state Torino più 11%, Roma più 13%, Napoli più 15%, Bari più 23%, Palermo più 19%, Catania più 32%. A Civitavecchia viceversa il segno è stato negativo, nel senso che ai 31 decessi attesi hanno fatto da riscontro i 30 osservati. Dal 1 al 15 luglio, nella media delle città controllate, si è addirittura osservato complessivamente un incremento significativo della mortalità pari al 21%, con incrementi in diverse delle città dove si sono verificate le ondate di calore, in particolare a Brescia più 31%, Bologna più 22%, Firenze più 22%, Roma più 28%, Viterbo più 52%, Latina più 72%, Napoli più 27%, Cagliari più 51%, Bari più 56%, Palermo più 34%, Catania più 35%, Catanzaro più 48%. Molto più basso invece è l'incremento che ha riguardato Civitavecchia, dove erano attesi 17 decessi e se ne sono invece riscontrati 20, con un aumento di poco superiore al 17% e quindi lontanissimo rispetto a quello riscontrato nelle altre realtà osservate. Il dato ovviamente non ha nulla a che vedere su quelle che sono poi state le reali cause di morte. Su questo specifico aspetto, purtroppo, i dati ufficiali sono ancora fermi al quinquennio 2015-2019. Riguardo agli accessi in pronto soccorso, nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 15 luglio, anche qui, a differenza di altre realtà, a Civitavecchia non si sono registrate sostanziali variazioni rispetto al passato. Covid sempre in diminuzione nel territorio dell'azienda sanitaria locale Roma 4. L'ennesima conferma è arrivata dal report quotidiano diffuso ieri dall'assessorato regionale alla sanità, che ha certificato un'ulteriore diminuzione di oltre 200 contagiati nei 28 comuni che compongono l'Asl nelle ultime 48 ore. Nel report diffuso nella giornata di lunedì scorso, infatti, nell'Asl Roma 4, erano presenti 1991 soggetti affetti dal virus. Il numero è sceso a quota 1732 nel resoconto fornito ieri. Civitavecchia continua a guidare la poco simpatica classifica dei comuni, col maggior numero di casi con 323 contagiati. Seguono Cerveteri con 277 e Ladispoli con 222. Nuove rotatorie sorgono. Sarà ultimata stanotte dagli operai di CSP la segnaletica orizzontale della rotatoria provvisoria tra Viale Europa, Viale Matteotti e Via Rodi, prevista dall'amministrazione per risolvere il problema del semaforo non funzionante da giorni. In attesa di diventare definitiva, la rotatoria è attiva da stamattina. Il servizio. Dopo settimane intere trascorse con i semafori spenti, si avvia verso la risoluzione la situazione di difficoltà che si registra all'incrocio tra Viale Europa, Viale Matteotti e Via Rodi. Le tante segnalazioni da parte dei cittadini hanno portato l'amministrazione comunale ad intervenire per riparare il guasto agli impianti semaforici della zona. Guasto che però è risultato più grave del previsto, tanto che la ditta incaricata non ha potuto riattivarlo. Da qui la scelta del Comune di prevedere in quell'incrocio una nuova rotatoria, al pari di quella che si trova poco più avanti tra Via Montanucci, Via Barbaranelli e Via Lepanto. I lavori sono iniziati questa mattina e saranno completati nelle prossime ore. Si è già provveduto a posizionare New Jersey al centro dell'incrocio e a disegnare sull'asfalto il futuro perimetro della rotatoria. Sono stati anche previsti dei birilli necessari ad indirizzare le auto all'interno della stessa, evitando possibili errori da parte degli automobilisti legati alla precedente viabilità. Stanotte gli operatori di Civitavecchia Servizi Pubblici completeranno l'opera disegnando la nuova segnaletica orizzontale che prevede un'unica carreggiata nelle quattro vie che portano alla rotatoria. Si tratta di una rotatoria sperimentale, afferma il comandante dei vigili urbani Ivano Berti, in attesa dell'intervento che la trasformi in una rotatoria definitiva. Abbiamo preso tutti gli accorgimenti necessari per rendere quell'incrocio scorrevole, ma allo stesso tempo sicuro. Proprio per questo è previsto un provvedimento che per le quattro arterie porti la velocità massima a 30 km orari. Abbiamo anche fatto le prove con i mezzi di trasporto più grandi e non abbiamo riscontrato problematiche. Come già successo per le tante altre rotatorie che sono sorte in città, serviranno dei giorni di rodaggio per gli automobilisti prima di dimenticare le lunghe attese quando si era in fila davanti ad un semaforo rosso. Tornano ad attualità purtroppo gli incendi a Civitavecchia. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 14.30 in via Licinio Refice a Borgata Aurelia per spegnere un vasto rogo di sterpaglie. Gli uomini della caserma Bonifazzi sono accorsi con l'autobotte per estinguere il fronte di fuoco che aveva lambito alcune abitazioni, tra cui una villetta in costruzione. I pompieri sono intervenuti per salvaguardare le abitazioni e sono da poco terminate le operazioni di bonifica. Non si è registrato nessun ferito. Primi download per l'applicazione per smartphone Mare Nostrum voluta dall'Osservatorio Ambientale per permettere ai cittadini di conoscere lo stato di salute del mare e delle spiagge di Terquinia, Civitavecchia e Santa Marinella. A pochi giorni dall'uscita sull'App Store un team di Hostess gira per le spiagge per spiegare ai bagnanti come utilizzarla. Con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto è possibile scaricare l'app Mare Nostrum voluta dall'Osservatorio Ambientale per permettere ai cittadini di conoscere lo stato di salute del mare e delle spiagge. Per far conoscere l'iniziativa da qualche giorno un team di Hostess ha il compito di spiegare a quanti più bagnanti possibili sulle spiagge di Terquinia, Civitavecchia e Santa Marinella come accedere o scaricare l'applicazione il cui funzionamento è particolarmente immediato. L'app viene resa visibile in ogni stabilimento da un manifesto con la frase Un tuffo dove il mare è più blu. Ed in tanti la stanno scaricando gratuitamente dotandosi di uno strumento per sapere in tempo reale se e dove è consentito fare il bagno. L'applicazione è infatti in grado di geolocalizzare l'utente ed indicargli, oltre alla sua posizione, anche se il mare è balneabile o meno. A deciderle ovviamente il Presidente della Regione, in base ai dati dell'ARPA, in un decreto che ogni anno viene emanato a giugno, ma anche dai sindaci che sempre sulla base dei rilievi di ARPA emanano eventuali ordinanze di divieto, per esempio per alghe tossiche, come già avvenuto nella spiaggia del Pirgo di Civitavecchia o coli batteri. Tutti questi rivieti sono mappati in tempo reale sull'app dell'osservatorio sia quando vengono emanati sia quando vengono revocati. Non solo. Ai cittadini, affermavano Iacomelli, Presidente del CDA dell'Osservatorio Ambientale, chiediamo di aiutarci a difendere il mare, segnalandoci sull'app anomalie o sospetti di inquinamento, fotografandoli e caricando le immagini direttamente sull'applicazione. La segnalazione, già localizzata, sarà inviata all'Osservatorio Ambientale, che dopo una prima sommaria analisi, provvederà ad inoltrarla all'autorità competente, cioè al Comune interessato e alla Capitaneria di Porto. Contiamo su un'iniziativa come questa, concludono Pedro Tidei, Presidente del Consorzio dei Comuni che fanno parte dell'organismo, e Ivano Iacomelli, per fare crescere un'identità ed un sentire condiviso nelle nostre comunità sui temi dell'ambiente e della sostenibilità, ed anche il fatto che la prima iniziativa dell'Osservatorio, dopo il lungo letargo forzato degli anni scorsi, parli di mare, dà il segno di come oggi l'Osservatorio sia un organismo concreto. Cinque punti per rilanciare Cività Vecchia e migliorare la vita delle persone, sui quali chiamare al confronto e al dibattito senza alcun premogenitura, alle forze politiche e sociali cittadine. Li ha elaborati il circolo locale del PD, al primo posto un ruolo importante nella cosiddetta transizione energetica, con l'obiettivo dichiarato che si realizzi l'impianto eolico offshore, comprensivo del lab nel quale realizzare le componenti e un impegno in direzione della logistica. Riguardo al crocerismo, i DEM pensano a protocolli d'intesa con i vari armatori che portino ad aprire prospettive di lavoro per i giovani e occasioni per le filiere locali della produzione enogastronomica negli approvvigionamenti. Viene poi proposto di aprire un tavolo di trattativa con Enel e Tireno Power affinché gli extra profitti realizzati con l'attuale maggiore produzione di energia siano destinati a interventi di riqualificazione urbana. Per il PD ancora il forte Michelangelo deve rientrare nella piena disponibilità della città per destinazione di carattere culturale. Viene chiesto infine un impegno straordinario al fronte istituzionale e associazionistico per iniziative di concreto sostegno al mondo della disabilità e nei confronti di tutti coloro che per varie ragioni sono posti ai margini. Siamo nel piano della settimana che tradizionalmente vede Civitavecchia impegnata a festeggiare il suo compleanno, ricordare quel 15 agosto dell'889 quando Leandro, secondo la leggenda, il fondatore della città, riuscì a convincere i suoi seguaci a spostarsi dalle colline per tornare a vivere davanti al mare. Ebbene stasera torna uno degli appuntamenti classici dei festeggiamenti, il padellone ovvero il grande ristorante all'aperto allestito in Viale Garibaldi dove a prezzi popolari viene somministrato pescato locale, un'edizione quella del 2022 del padellone che si presenta diversa rispetto a quelle immediatamente precedenti. Entra nel vivo il ferragosto Civitavecchiese e non solo per la partenza dell'atteso Summer Festival 2022 che porterà alla marina nomi importanti della musica e dello spettacolo italiani. È infatti arrivato anche il momento di uno dei simboli della città nel periodo estivo e in particolare del cosiddetto Natale di Civitavecchia che si festeggia a ferragosto. Da stasera e fino alla serata del 15 che come sempre culminerà con l'altrettanto tradizionale spettacolo pirotecnico, Viale Garibaldi torna ad ospitare il padellone. Non è più la manifestazione che negli anni 50 e 60 richiamava migliaia di persone provenienti dai centri del comprensorio e dalla capitale ma si tratta sempre di un appuntamento sentito, di un incontro per certi versi estemporaneo con il pescato locale. L'edizione di quest'anno sarà diversa rispetto a quelle immediatamente precedenti. Non sarà più infatti la Proloquo ad organizzare e gestire la 5 giorni a base di frittura di pesce in Viale Garibaldi ma la società alla quale Palazzo del Pincio ha affidato l'intero calendario delle iniziative che stanno caratterizzando l'estate Civitavecchiese. Peraltro l'edizione 2022 del padellone dovrebbe essere quella della rinascita visto che le due immediatamente precedenti erano state comunque condizionate dalle restrizioni adottate in conseguenza della pandemia. L'ultima edizione per certi versi regolare della manifestazione, quella del 2019, aveva fatto registrare oltre 3.000 presenze ai tavoli del grande ristorante all'aperto. Vedremo se dopo la 5 giorni di quest'anno in Viale Garibaldi si torneranno ad avere gli stessi numeri. Il tempo degli annunci è terminato, si inizia a suonare, Piazza della Vita è pronta a riempirsi di gente per il Civitavecchia Summer Festival, la rassegna di eventi estivi che quest'anno avrà un cartellone di primo livello. Partenza fissata per stasera quando salirà sul palco L'Azza, il rapper milanese, è impegnato con il tour di Sirio, il suo ultimo album che in questo momento si trova in testa alle classifiche degli album più venduti in Italia. Salito alla ribalta recentemente ricevendo anche attestati di stima dal mondo rap italiano sia contemporaneo che del passato, L'Azza negli ultimi tempi è stato impegnato anche in progetti musicali con sfere basse da Superim. Nei giorni 16, 20, 22, 23, 25 e 26 agosto in concomitanza con gli eventi organizzati per il Summer Festival, il servizio di trasporto pubblico subirà le seguenti modifiche. Linea B dalla corsa delle 19.10, partenza da Piazza Vittorio Emanuele per proseguire per il normale percorso sino a Via Terme di Traiano, per poi percorrere Via Isonso e Via 16 Settembre, Piazza Calamata e terminare in Piazza Vittorio Emanuele. Linea C dalla corsa delle ore 18.50, partenza da stazione, normale percorso sino a Via Le Garibaldi per poi proseguire su Via Crispi, Via Roma, Via Isonso e terminare a Piazza Vittorio Emanuele. Per le successive corse, partenza da Piazza Vittorio Emanuele, linea D dalle ore 19, spostamento del capolinea della stazione in Piazza Vittorio Emanuele, linea F dalle ore 19, dopo Via Terme di Traiano, percorrerà Via Roma, Via Crispi, Via Le Garibaldi per poi riprendere il normale percorso. Cambio di programma nella serie di amichevoli del Civitavecchia. La sfida prevista per domani pomeriggio al Tamagnini contro Lativoli è stata annullata. I nerazzurri comunque non rimarranno a bocca asciutta perché ci sarà allo stesso un impegno probante per testare la condizione e verificare quanto svolto nelle prime due settimane di allenamenti. Domani alle 18 la squadra allenata da Alessio Bifini sarà al desideri per far visita al Fiumicino, squadra che parteciperà al prossimo campionato di promozione. Intanto si presenta il nuovo arrivato Marco Zambrini che ascoltiamo in questa intervista. Marco Voleglio Zambrini, per gli acimici possiamo dire tranquillamente Marco, nuovo colpo per quanto riguarda questo Ciechia. Già conosci un pochino l'ambiente, visto che qualche giorno ti alleni con la squadra, come mai hai scelto questa squadra? Ho scelto questa squadra perché conosco alcuni ragazzi che già stavano qui l'anno scorso, mi hanno consigliato questa società perché è una società seria, una società che punta a vincere il campionato e penso che comunque abbiamo tutte le credenziali e tutti i giocatori possibili per vincere il campionato. L'obiettivo e il desiderio è ovviamente quello di andare in SRED, categoria che conosci visto che l'hai frequentata con il Monte Rosi e anche con il Real Monte Mondoscalo, per cui servirà un Ciechia che possa superare tutte le varie avversarie in questo campionato. Certo, noi comunque affrontiamo la partita una alla volta e pensiamo comunque sempre alla vittoria. Poi quello che comunque ci aspetta nel percorso di questa stagione lo scopriremo sempre comunque vivendolo e iniziando la stagione. Quindi comunque dalla prima partita del campionato pensiamo sempre a vincere e poi quello che succede, succede. Cercando un po' di formazioni è quello che ho visto, sei un giocatore molto d'utile che puoi giocare sull'esterno, soprattutto offensivo ma anche difensivo da quello che ho capito, anche puoi andare a occupare la casera di Terzino in certi momenti? Sì, comunque nelle scorse stagioni ho fatto anche il quinto, il quarto e comunque l'esterno, il trequartista al centrocampista. Comunque in questi ultimi anni mi sono sempre comunque mosso dentro le posizioni e mi trovo a mio agio in quasi tutte le posizioni quindi penso sia un punto a favore. Poi davanti c'è una bella lotta in attacco quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo Manu e Gigi che sono due grandi giocatori e puntiamo molto tutti loro. E a Montero si è anche vinto il campionato di Serie D, tra l'altro con un gol decisivo che hai fatto a Santa Maria Capovedere contro il Gladiator segnando in contropiede al novantesimo, per cui speriamo di vedere qualche gol da parte tua anche qui a Civitavecchia. Sì, sì, quello è stato un gol molto importante soprattutto per me e anche per la squadra e spero che magari quest'anno ne faccia un po' di più. Buonissime notizie per l'Atletico Civitavecchia che dopo aver cambiato da poco denominazione ha ricevuto delle novità importanti dal comitato regionale della LND. Per il club giallo-blu sono arrivate ben due ripescaggi. Riguardo quello della squadra maschile di Fabrizio Nunzi era una notizia che circolava da tempo e di cui si attendeva solo l'ufficialità. Per cui la società del presidente Ermanno Moneroni convoglierà le energie per poter puntare ad un campionato di alta classifica e con possibili colpi nel periodo di Ferragosto. Men' attesa invece la situazione che si è verificata in Serie C femminile dove ci si attendeva comunque la presenza di una squadra Civitavecchiese. La Sampio X dopo aver vinto il campionato di Serie D non ha proceduto all'iscrizione alla categoria superiore. Ci sarà invece l'Atletico Civitavecchia ripescato nonostante la retrocessione diretta della scorsa annata. Ora starà al club di Via Cerruti organizzarsi per vivere una stagione con maggiori soddisfazioni. Dal 29 agosto il CRC si presenterà al campo Moretti della Marta per iniziare la preparazione atletica in vista del prossimo campionato di Serie A che prenderà il via ad inizio ottobre. A guidare il gruppo allenato da Mauro Tronca e Umberto Denisi sarà il preparatore atletico Giuseppe Diana. Nelle prime due settimane ci saranno quattro allenamenti alla settimana spiega Diana dopodiché si scenderà presumibilmente a tre. Nelle prime due settimane ci si dedicherà a mettere la squadra sotto stress sia dal punto di vista fisico che mentale, fattori fondamentali per lo sviluppo di un approccio positivo in un campionato duro e lungo. Fortunatamente i ragazzi hanno avuto un continuum di allenamenti da giugno al 15 agosto attraverso tre microcicli di lavoro con programmazione settimanale basata su cinque allenamenti, tre di palestra e due atletici con differenziazione dei carichi di lavoro. Si sono appena conclusi gli IQ Foil Youth e Junior International Games, evento per le tavole olimpiche giovanili che si è svolto presso il circolo Surf Torbole. La regata ha coinvolto i migliori giovani atleti a livello internazionale con un totale di iscritti pari a 161 provenienti da 30 nazioni diverse. I ragazzi della Lega Navale di Civitavecchia sono stati accompagnati dal coach Matteo Evangelisti che è rimasto particolarmente soddisfatto delle loro performance. Gli atleti locali, ad eccezione di Matteo Molentino, erano alla loro prima esperienza a livello internazionale sul Foil e proprio Molentino, a detta di tecnici, ha dimostrato di possedere le capacità per rientrare nei primi 15 a livello internazionale. La Civitavecchia Volley Academy debutta con un torneo in memoria della piccola Carola Stortini. È stato il primo evento del Polo Arancionero, un evento fortemente voluto e portato avanti con grande emozione da tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Presso la Beach Arena questo weekend è andata in scena una due giorni di fuoco. I numeri, 121 atleti, 4 categorie, 72 partite, tanta gioia, emozione e allegria nel ricordo di Carola Stortini. La piccola pallavolista venuta a mancare solo qualche mese fa e che aveva vestito entrambi i colori. Vincitori per la categoria Under 14, le Fantastiche 4, Under 18, la gang che fa Bang, Open Arancio, La Famiglia e infine Open Nero. Piamo se la ride. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, Youtube, Instagram, inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it La sapienza di ieri e la tecnica di oggi al servizio della migliore qualità. Carni Diego e Barbara dal 1992, Carni di produzione propria. Grazie. 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 Grazie.